Ciao a tutti, sono Creepop0... volete? Sigla! Stavolta mi sono superato! No, scherzo! Volevo fare gli auguri a Francis, Silverbombo89, che l'altro ieri compiva 13 anni, ancora auguri! Sigla! Allora, oggi parliamo di un film del 1990 per la regina di Martin Scorsese che è Quei bravi ragazzi, in inglese Goodfellas. Allora, qui la trama è la più semplice del mondo. Si parla di questo ragazzo che fin da giovane si inserisce nella mafia per poi, con l'ausilio di due persone italiane, arrivare a essere uno dei cosiddetti bravi ragazzi, ovvero gli uomini usati dalla mafia per i lavori sporchi. Ciononostante, non riuscirà mai a sfondare e di qui in poi parte l'ultimo atto che narra della discesa e della caduta del nostro. Siamo indubbiamente davanti a un immenso capolavoro, uno dei migliori film di Scorsese, dove la regia tocca vette irraggiungibili. È una regia ipertecnica che usa la stessa mano per raccontare una storia fenomenale. La regia stessa è fantastica per ciò che racconta e mette in scena in modo straordinario e vale lo stesso per il montaggio. Qui abbiamo il classico montaggio alla Scudmaker, ovvero la classica montatrice amica di Scorsese che monta i suoi film dal primo, dal primo primo, che era Chi sta bussando alla mia porta nel 69. E abbiamo un epilogo, è una scena dell'aereo, quella scena finale, che sono da insegnare nelle scuole per quanto sono montate bene. Un'altra volta, Martin Scorsese collabora con De Niro e Joe Pesci, entrambi enormemente magistrali in questo film. Infatti, fra l'altro, Pesci vinse l'Oscar per la sua magnifica interpretazione. Anche grandissimo Ray Liotta nella parte del protagonista e Paul Sorvino nei panni del boss mafioso. Anche qui troviamo moltissime scene iconiche da manuali della storia del cinema, una struttura classica dei film di mafia e un film coraggiosissimo che descrive benissimo la violenza e la stupidità della violenza stessa e l'idiozia della mafia e della propria gerarchia. Una grande epopea mafiosa tratta dal libro di un mafioso, Nicola Spileggi, il libro si chiama Wise Guy, recuperatelo se volete, è sceneggiata anche da un ex mafioso, lo stesso Pileggi, un'epopea che entra dentro la mafia e ne mostra le dinamiche e i drastici provvedimenti che vengono presi all'interno delle gerarchie. Una volta questo era grande cinema che trasmetteva qualcosa al proprio pubblico e era considerato grande intrattenimento e incassava. Oggi si è un po' perso il significato di grande cinema, per cui io dico di non farvi infinocchiare da chi dice che il vecchio cinema anche di intrattenimento fa schifo. È cinema che fa ragionare ma comunque fa passare a due ore, due ore e mezza, in compagnia e in tranquillità. Qui il buon vecchio Martin trasmette tutta la sua passione e tutta la sua capacità di creare grande arte cinematografica. Per rimanere in discorso scorsese, The Irishman, capolavoro di un film, è stato distribuito in dieci sale in tutta Italia, mentre quelle monnezze dei Transformers vengono apportate in 800.000 sale in tutto il paese. Questo per far capire come il grande cinema che fa riflettere su qualcosa viene sottovalutato, mentre il mero cinema di intrattenimento dove ci sono due robottoni che si prendono a botte viene estremamente sopravvalutato. Spero con questo piccolo discorso di avervi convinto e ripeto di andarvi a recuperare quell'eterno immenso film che è Quei bravi ragazzi, bravo scorsese, bravi De Niro, liotta e pesci e grandi tutti quelli che hanno partecipato a questo in mano e capolavoro che è anche il mio quarto film preferito. Io con questo vi saluto, vi auguro buone cose, buona serata, buona giornata, dipende dall'orario in cui guardate il video e ci vediamo al prossimo Cine Reporter. Ciao a tutti!